L'originalità, diciamo anche le civicità, e talento, allora diventa alternativa. Quando qualcuno è stato, come scrive, in un suo pezzo, per vent'anni barattolo, vent'anni suoi, la sua vita, e i trentamila secoli della nostra, come razza umana, in un barattolo di conformismo della cosiddetta civiltà, si stanca. Rompe il barattolo e decide di vivere come vuole, come è, 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 ha il coraggio qualche artista, qualche raro artista, che sa vivere la sua arte, la sua poesia, la sua musica. Rompe il barattolo e dice di vivere come vuole, come vuole, come vuole, come vuole. Rompe il barattolo e dice di vivere come vuole. Rompe il barattolo e dice di vivere come vuole, come vuole, come vuole, come vuole, come vuole. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.